così andiamo a rifare di nuovo la stessa identica cosa volevo farvi vedere da qua nel network andiamo a vedere all andiamo a fare un refresh se vedete ci sono vabbè ci sono i vari script se faccio js mi porta un assemble di script e se guardate sta importando diversi script se faccio sign in vediamo non carica niente perché lui all'inizio carica tutto carica tutti i javascript anche delle pagine che non ancora non ho visitato cioè lui carica tutto perché? perché nei route qui gli stiamo dicendo i componenti da importare ma se volessi fare un lazy loading delle pagine cosa dovrei fare? questa semplice modifica qui visto che stiamo usando il standalone component load component quindi diciamo di fare un import di dove si trova il nostro componente quindi punto barra in questo caso era quello di autenticazione autcomponent punto pen c c punto autcomponent lo stesso facciamo qui lo stesso facciamo qui questo qui è l'editor component andiamo a modificarlo load component dei punti qui ci mettiamo una virgola se no import punto barra pages editor editor component punto ven c e punto editor component e questo possiamo cancellarlo e lo stesso facciamo nella home quindi copiamo questo home par home page qui togliamo via questo home page component andiamo a formattare ok legge già meglio ok e già le prime modifiche si dovrebbero vedere vediamo vedete si è caricato quando sono entrato nella pagina se adesso io faccio sign in si carica sign up sign in riloghiamoci .it demo demo 1 ok sono nella pagina principale se adesso vado nel new post ah non l'avete apprezzato comunque ha caricato il nuovo elemento quindi solitamente per fare un lazy loading qui poi dipende dalla vostra strategia di come poterlo usare di cosa volete fare di solito si fa un lazy loading in maniera tale che l'utente non debba caricare tutte le pagine della vostra applicazione ovviamente qui è velocissimo perché l'applicazione è molto molto piccola ok però su applicazioni molto grandi fa la differenza caricare o non caricare tutto quindi facendo questo con load component si va in lazy loading quando l'utente riclama una pagina carica il pezzetto che gli serve poi se volete approfondire il lazy loading c'è anche lo strategy cioè come volete fare in modo che angular carichi le altre pagine ad esempio potete dire se l'utente è fermo non ci sono altre chiamate va a caricarsi altre pagine con un route strategy ok ci sono tante tante possibilità però avete visto l'article resolver come vi semplifica ad esempio la stessa loading ovviamente facendo con resolver che succede guardate vi faccio vedere una cosa se qui ci metto ad esempio vediamo se riesco a farli ve lo vedere qui ci mettiamo un delay mettiamo un delay di 5 secondi facciamo un salvataggio vedete non vi fa vedere la pagina fin tanto che il resolver non ha finito ora potreste dire ma come posso fare per far vedere uno spinner quando ad esempio il resolver sta caricando beh la cosa più semplice che io farei è creare un nuovo servizio di ad esempio spinner punto service punto ts no quindi qui farei un servizio così spinner service qui mi dice se farei una variabile isloading uguale al signal di tipo booleano e ovviamente all'inizio è false no quindi questo qui mi dice se sta caricando oppure no poi nella home page qui mi andrei a creare a iniettare intanto navigation service non serve più quindi qui mi servirebbe lo spinner service uguale a inject spinner service quindi qui c'ho lo stato poi qui non avevamo messo il footer andiamo a metterci il footer ok qui a questo punto ci farei il div con scritto caricamento caricamento in corso quando quando if finner service punto isloading lo farei vedere oppure no qui ci aggiungo una bella classe spinner andiamo a definire questo spinner non so dove lo sta mettendo ah no dobbiamo ancora metterlo nel resolver andiamo a metterlo nel resolver ok quindi qui const spinner service uguale a inject spinner service vi avevo detto di non usare mai il tap ma in questo caso si può usare il tap si può usare o in questo caso o per fare dei 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 bug per vedere cosa succede nella nostra pipeline quindi qui farei spinner service punto isloading to set true e quando ha finito qui set false se andiamo a salvare vedete c'è già il caricamento in corso ovviamente così non è proprio carino andiamo a definire un attimino la classe tanto per essere un po' spinner qui gli farei apply absolute poi un bg vediamo late 400 no absolute no un bravo un fixed top zero left zero vediamo un po' devo mettergli un v full un h full vediamo eccolo ovviamente il footer va bene perché primo piano lo slit delvero così non è proprio carino facciamo così background color facciamo un rgba magari potremmo mettere potremmo mettere 0 0 0 0 0.1 vediamo no troppo basso mettiamolo un po' più alto ok facciamolo così poi facciamo un flex item center justify center salviamo ecco magari al posto del caricamento in corso ci metterei la rotellina che gira quando ha finito resolve magari 5 secondi sono un po' troppi ma possiamo magari ridurre a 2 quindi 2 secondi fa vedere lo spinner se adesso io sul tag vado a filtrare ovviamente qui bisogna andare a vedere i vari z index qui adesso l'html non lo conosco esattamente però come vedete c'è il caricamento in corso vabbè possiamo anche metterglielo anche noi possiamo mettergli z index vediamo scritta magari potremmo farla bianca text white ecco 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 Grazie a tutti.